Perché Emigratis 2018 non va in onda oggi 9 aprile? Ecco la scelta Mediaset. Emigratis 2018 con Pio e Amedeo, salta la puntata di oggi 9 aprile, ecco il motivo. Brutta notizia per tutti gli spettatori del programma Cancelletto Emigratis 2018 condotto da Cancelletto Pio e Amedeo in onda su Italiano. Come ben saprete, infatti, le prime tre puntate di questa terza stagione del programma sono andate in onda di lunedì sera, tuttavia coloro che oggi 9 aprile si collegheranno in prime time su Italia 1 per seguire il quarto appuntamento con Emigratis rimarranno profondamente delusi. Anticipazioni Emigratis 2018, cancellata la puntata di oggi. Possiamo anticiparvi, infatti, che questa settimana cambierà la programmazione della trasmissione con Pio e Amedeo e quindi la quarta puntata di Emigratis 2018 non sarà trasmessa di lunedì. Una decisione che sicuramente non piacerà ai tantissimi fan del programma che erano già pronti per seguire le nuove avventure di Pio e Amedeo che anche questanno stanno registrando degli ascolti pazzeschi. La terza edizione di Emigratis 2018, infatti, sta ottenendo un ascolto medio di oltre 2.4 milioni di spettatori a settimana con uno share del 10. Numeri decisamente molto positivi per la rete giovane del gruppo Mediaset e in netta crescita se paragonati a quelli della scorsa edizione del programma che in seconda serata su Italia 1 registrava una media di 1.2 milioni di spettatori. Praticamente, quindi, Pio e Amedeo sono riusciti a raddoppiare la loro media di spettatori, confermando così il grande successo di pubblico e ascolti. Ma per quale motivo oggi 9 aprile non andrà in onda la puntata di Emigratis su Italia 1? La decisione Mediaset è dovuta al fatto che da questa settimana l'isola dei famosi 2018 con Alessia Marcuzzi tornerà in onda di nuovo di lunedì sera. Per le battute finali di questa edizione, infatti, i vertici del Biscione hanno scelto di modificare la programmazione del reality show cambiando giorno di messa in onda. Ecco quando ritorna Emigratis 2018 in tv. Ecco allora che il ritorno dell'isola dei famosi di lunedì sera ha conseguentemente sancito lo spostamento di Emigratis in un altro giorno della settimana, dato che i due programmi hanno un pubblico molto simile, composto in primis da giovani e giovanissimi. Quindi per non creare concorrenza interna si è optato per il cambio di programmazione. Quando torneranno in onda Pio e Amedeo in tv virgola? Le anticipazioni ufficiali rivelano che le restanti puntate di questa terza stagione di Emigratis andranno in onda su Italia 1 di giovedì sera a partire dal 12 aprile, come sempre alle 21.20 circa. Grazie a tutti!